In questi 5 giorni di Agostini abbiamo visto il libro a 360 gradi, ovvero abbiamo visto l'ideazione, la progettazione, la costruzione e la vendita del libro. Per quanto riguarda l'ideazione, il libro viene ideato quando gli agenti di marketing si rendono conto che c'è necessità di creare un nuovo corso di una determinata materia. A questo punto il libro viene ideato proprio dagli autori e tutto il team che si è intorno agli autori e poi il libro viene affidato a degli stampatori esterni, il prodotto viene creato, nel vero senso della parola si crea il libro fisico e poi tramite dei venditori interni, questo libro viene venduto e portato in tutte le scuole d'Italia. Grazie a tutti! Grazie a tutti!